benissimo mi sembra bene non è 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 il giugno per a dividere tra la palana ci si è sbaccato tu anch'io avanti il prossimo grazie grazie spero che per per quando hai letto mi chiederà di più che lo considerai perchè tu fai cosi come sai fingere se ti fa comodo adesso so che si è e non ci soppro piu e se verrai di la te lo dimostrerò questa volta tu te lo ricorderai come sai fare tu bambone nudeti io non ci casco piu tu mi rifugierai tu mi rifugierai